Buon pomeriggio amici di Spazio G, siamo qui fuori dall'Allianz Stadium dove si è appena conclusa la conferenza stampa di vigilia di Massimiliano Allegri. Domani Sampdoria Juve, ci sarà sicuramente un titolare, uno di questi è il tanto chiacchierato in questa finestra di mercato, Adrian Rabiot, lo ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa poco fa, giocherà titolare, con lui titolare sicuramente Costi, c'è anche in virtù del fatto che c'è fuori Di Maria, Pogba, Chiesa, insomma la rosa degli infortunati della Juventus è molto ampia, ha parlato anche di questo, Massimiliano Allegri parlando di una situazione non così sconvolgente, sono infortuni che possono succedere nella stagione, sì è vero sono tanti, però alcuni sono accidentali, come vedi McKennie nella tournée americana con i problemi alla spalla. Molti altri temi di cui ha chiacchierato e parlato con i giornalisti Massimiliano Allegri, sicuramente anche il tema dei giovani è un tema importante, con la permanenza di Rabiot potrebbe anche partire uno dei giovani, insomma uno tra Rovella, Fagioli e Miretti, sicuramente tra dieci giorni fino alla conclusione del mercato potrebbe e potrà succedere qualcosa sia in entrata che in uscita per la Juventus, ha parlato anche di un Zaccaria, tanto chiacchierato in queste ultime ore potrebbe partire, per il momento Allegri fa affidamento su di lui, difficilmente domani sarà titolare perché, come abbiamo accennato prima, sarà titolare Rabiot, insomma Allegri lo vede bene titolare, lo ha fatto giocare molto la scorsa stagione, è stato uno dei primi tre per numeri, insomma, a giocare per minutaggio, a giocare nella Juventus dello scorso anno. In attacco le scelte sono un po' obbligate, giocheranno nel tridente quadrato, Vlaovic e appunto Kostic, su Ken si è soffermato anche parlando di un ottimo innesso, Ken e appunto Rabiot erano squalificati nella prima giornata, lui ha parlato di due nuovi acquisti per la seconda giornata di campionato che sicuramente a lungo andare possono portare beneficio a tutta la squadra perché sarà insomma una stagione lunga tra Champions League, Coppa Italia e campionato con il mondiale di mezzo, molte le partite che si giocheranno, insomma, quindi ci sarà spazio un po' per tutti. Queste le parole di Massimilio Allegri, sicuramente ce ne sono tante altre, potete leggere su spazioj.it, un saluto da Andrea Bargione.